ciao amici come state iniziamo una nuova settimana insieme vi piace il motto trendy e sani con simona vignali sì sì ma noi oltre che trendy e sani siamo anche con qualche chilo di troppo ok allora questa settimana vediamo come bruciare il grasso in eccesso anch'io ho preso qualche chilo quest'estate ma per fortuna ho seguito una super alimentazione brucia grassi e ha funzionato voglio svelarvi qualcuno dei miei segretucci ma così subito se vi piace l'idea mettete intanto un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video avete sentito parlare anche voi della dieta chetogenica per dimagrire a me ogni volta che leggo una nuova definizione di dieta mi si accappona la pelle ci sono persone che studiano i nomi da dare alle diete per avere un forte impatto emotivo e commerciale adesso va di moda la dieta chetogenica è una dieta iperproteica e non va assolutamente seguita con il fai da te in teoria togliendo carboidrati e glucosio il livello di insulina resta costante e il corpo per produrre energia consuma i grassi ma non fa solo questo in realtà il nome chetogenico deriva dalla sua azione sul corpo cheto si riferisce all'aumento dei corpi chetonici e genica vuol dire che crea produce quindi è una dieta che produce corpi chetonici sostanze già presenti nell'organismo che spingono il corpo a bruciare i grassi per produrre energia ma se aumentano di concentrazione durante la dieta iperproteica o il digiuno questi corpi chetonici possono diventare dannosi alterano il ph dell'organismo e del sangue e il corpo va in chetosi è una via rischiosa per dimagrire bisogna fare attenzione non fatevi ingannare tutte le star che ne parlano sono seguite seguitissimi da medici e dietologi specializzati insomma come sempre la vera regola per dimagrire naturalmente è farlo in modo equilibrato come spiego nei miei video per guardarli tutti basta iscriversi al canale se non lo avete fatto è facile basta un click così e attivate la campanella delle notifiche spoletto dice che lui vorrebbe fare anche muscoli non solo perdere l'ardo ho proprio un video per lui e per tutti voi amici che volete sostituire grasso pancetta e maniglie dell'amore con muscoli tonici e definiti molti atleti famosi usano la dieta vegana per fare massa ed eliminare il grasso vi spiego i loro segreti e per noi che passiamo le giornate in ufficio vi spiego il mio metodo per fare una pausa pranzo brucia grassi ovunque siate al bar al fast food alla mensa e anche a casa e siccome per dimagrire serve anche il movimento fisico vediamo quali sono i migliori sport per bruciare i grassi e ottenere risultati in fretta per chiudere facciamo una classifica di chi ha perso più chili se non sono io giusto anche di questo continuate a scrivermi nei commenti i risultati che ottenete con i consigli dei miei video così vi saluto e vi faccio i complimenti fanti bacini farò una classifica dei migliori 10 cibi brucia grassi contro i peggiori cibi a massa ciccia ok ora condividete questo video fate conoscere il canale a quante più persone possibile c'è chi dice che la salute naturale è un argomento di nicchia ma io vi chiedo chi non vorrebbe stare bene senza bisogno di roba chimica e dei suoi effetti collaterali io penso che riguardi tutti allora vi aspetto in tantissimi al prossimo video naturalmente ciao